E salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi andremo a parlare e vi dirò perché Final Cut, Logic Pro, Xcode non arriveranno mai su iPod Prima di far partire la sigla, mi scuso perché ho la stessa medita dell'ultimo video Ma sto registrando tutti i video di seguito Mi raccomando condivideteli, mettete like perché sto editando ragazzi Registrando 5 video al giorno Non so se sapete cosa vuol dire registrare e montare 5 video al giorno Vuol dire, beh, il computer perennemente con le ventole al massimo E il mio router che poverino chiede pietà Ma prima, sigla Beh ragazzi, allora, vi ho già detto di iscrivervi e andare a seguirmi su Instagram Che lì trovate aggiornamenti in tempo reale Questa cosa l'avreste già saputo, che io avrei fatto questo video tanto atteso Perché non mi ho continuato a fare domande su questa cosa Infatti, mi chiedete, ma quando arriverà sto Final Cut, sto Logic Pro e questo Xcode Tanto atteso su iPad? E che vi dico? La risposta? La volete sapere? Mai Ma ora vi spiego perché Prima cosa, dovrebbe arrivare una versione diciamo castrata Perché ovviamente tutti i piccoli controllini che ci sono su Xcode, su Final Cut Soprattutto delle animazioni, dell'esportazione Ecco, andrebbe completamente riprogettata Quelle applicazioni sono state progettate per interagire con un dispositivo touchpad Con la tastiera, non con un dispositivo touch E quindi andrebbe riprogettata completamente l'applicazione Poi, seconda cosa, arriverebbe comunque una versione castrata Perché non ci puoi mettere tutte quelle funzioni E terza cosa, andrebbe abbassato il prezzo E Apple non va tanto a genio Perché tu non mi puoi far pagare 329 euro un'applicazione per iPad Che l'iPad basso, che potrebbe senza problemi far girare Final Cut Mi costa 389 euro Capite che non ha senso Perché tu non mi puoi far pagare un'applicazione Quasi come più della metà del mio tablet Capite che non ha senso questa cosa Andrebbe completamente ridisegnata Abbassato il prezzo E non chiamarlo Final Cut Ma con un nome diverso Un'applicazione sviluppata da Apple Che si inserisce tra i movie e l'UmaFusion Una versione, diciamo, ancora leggermente migliorata di l'UmaFusion Sviluppata direttamente da Apple Perché, purtroppo, Final Cut Così com'è, non va Cioè non basta importarlo sull'iPad Poi Xcode e Logic Pro Pure quelle andrebbero tolte un po' di funzioni E ridisegnate e abbassato il prezzo Allora Xcode, vabbè, potrebbe anche starci così Perché alla fine non ha Cioè abbastanza funzioni Andrebbero semplicemente ridisegnate leggermente i bottoni Che sul Mac sono in alto Lì andrebbero rimessi in un modo diverso Mentre Logic Pro andrebbe come Final Cut Completamente ridisegnata e abbassato tantissimo il prezzo Cosa che poi potrebbe magari sfavorire Apple Sulla vendita dei propri dispositivi fissi come il Mac E far utilizzare tutte queste funzioni Tutte queste versioni su dispositivi mobili come l'iPad E quindi ragazzi capite che non è proprio il massimo Anche perché Final Cut, plug-in Quasi tutti vadati su Intel E tutti gli iPad sono architettura ARM Quindi servirebbe Se sarebbe un lavoro troppo grande risviluppare tutte Poi la gente se ne andrebbe Ovviamente dal Mac Per andare verso l'iPad Anche perché Se puoi utilizzare il touch Utilizzare il track Utilizzare la tastiera Capisci che alla fine è un Macbook touch Cosa che tutti aspettano Ma che Apple non vi darà mai E quindi dai ragazzi Ne ci vediamo Speriamo domani con un nuovo video Mi raccomando Iscrivetevi al canale Infine niente dai Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao